Ecco l'incredibile resoconto dell'epica edizione numero 17 del Grande Fratello, un viaggio avvincente che ha catturato l'attenzione di milioni di telespettatori fino all'ultimo istante. In una serata carica di emozioni travolgenti e momenti indimenticabili, abbiamo assistito alla corona della vincitrice, la straordinaria Perla, che ha conquistato il cuore del pubblico con il 55% dei voti nel televoto, lasciando Beatrice Luzzi con il 45% dei consensi. L'emozione ha raggiunto livelli senza precedenti durante il percorso verso la finale, con spettacoli emozionanti e reunion commoventi. Ricordi che resteranno incisi nei cuori di tutti coloro che hanno seguito con passione questa incredibile avventura. Alfonso Signorini ha guidato il pubblico attraverso un viaggio emozionale, presentando momenti salienti e sorprese personalizzate che hanno regalato pura gioia e commozione. La competizione ha raggiunto l'apice con televoti fulminei che hanno determinato i finalisti, culminando nella sfida epica tra Beatrice e Perla, vissuta nell'intimità di una casa che pian piano si spegneva. Infine, il momento tanto atteso, l'annuncio della vincitrice, Perla, che ha reso questa edizione del Grande Fratello una delle più coinvolgenti e ricche di sorprese. Le storie personali, le sfide e le emozioni hanno creato un mosaico indimenticabile nella storia del reality. E voi, sostenitori di Perla o Team Beatrice, cosa ne pensate? Lasciateci i vostri commenti e, se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale. Grazie per aver condiviso con noi questa straordinaria avventura.